Un punto e pochi rimpianti per il Cidi Vergen nella sfida contro il Forza e Costanza, anzi il pareggio porta i ragazzi di Quartuccia a fare un sospiro di sollievo, visto il finale al Beppi Casari di Martinengo. La sfida parte subito improntata sull'agonismo e poco sul gioco, nonostante ciò la prima chance è degli ospiti, la punizione di Bresciani viene però respinta in angolo. La prima occasione per i padroni di casa è di Mazzoleni che mette alto di testa, al 27esimo i bianconeri mettono la freccia e passano avanti, gran gol in girata di Rinaldi che supera vigilati. Poco dopo arriva anche la possibilità di raddoppiare, ma Rinaldi si mangia al 2-0 calciando alto nell'1-1 contro l'estremo difensore ospite. La parola riaccende i giallo-blu che allora pareggiano, Minesi buca sotto le gambe Sangalli su assist di Ricciardi. Il secondo tempo inizia però male per il Cili, Rinaldi alla stessa occasione del primo tempo, stavolta vigilati e perfetto a parare con il piede. Il Cili prova a rispondere con Triglia che però colpisce piano di testa la posizione defilata. Un'altra incornata può regalare il vantaggio stavolta per i padroni di casa, ma Longhi non riesce a trovare la porta. Nel finale arriva la chance migliore per il Forza e Costanza. Torri nel tentativo di spazzare causa rigore, dal dischetto Lex Licini calcia fuori. Successivamente al calcio di rigore i giallo-blu perdono anche Belotti per espulsione diretta, successivamente a delle proteste. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità e consegna un punto ad ambedue le compagini con Ila Ciriverghe che tornerà in campo domenica a casa Cili per la sfida contro Ila Castiglione alle ore 14.30. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti